Ciao a tutti, mi chiamo Elia Corrone e sono iscritto al corso di scienze storiche. Facciamo questo video per invogliarvi allo studio universitario. Io ve lo consiglio, dimenticate quello che avete fatto alle superiori perché l'università è una bellissima esperienza, sembrano frasi fatte ma è la verità. Vi aiuta a conoscere meglio voi stessi e a intraprendere un cammino di progresso personale. L'università di Verona è un bel posto dove potete fare belle conoscenze, belle amicizie ma soprattutto anche a intrattenere rapporti molto costruttivi con gli stessi docenti. Per questo motivo io vi consiglio di intraprendere un corso di laurea e vi consiglio di seguire la vostra passione perché solo così concluderete gli studi altrimenti rischierete di perdere la strada. Quindi seguite quello che vi piace e soprattutto impegnatevi fin dall'inizio perché l'università è una grande possibilità che non tutti si possono permettere. Buona fortuna!